5. Maturazione. La strega non si sapeva dar pace. Che hai concluso? mi domandava. Non te era bastato di esserti introdotto in casa mia come un ladro per insidiarmi la figliuola e rovinarmela? Non te era bastato? Eh no, cara suocera, le rispondevo. Perché se mi fosse arrestato lì vi avrei fatto un piacere, reso un servizio. Lo senti? strillava allora la figlia. Si vanta, osa vantarsi per giunta della bella prudezza che è andato a commettere con quella. E qui una filza di laide parole all'indirizzo di Oliva. Poi, arrovesciando le mani sui fianchi, appuntando le gomita davanti, ma che hai concluso? Non hai rovinato anche tuo figlio così? Ma già, a lui che gliene importa. È suo, anche quello è suo. Non mancava mai di schizzare infine questo veleno, sapendo la virtù che esso aveva sull'animo di Romilda, gelosa di quel figlio che sarebbe nato a Oliva tra gli agi e in Letizia, mentre il suo, nell'angustia, nell'incertezza del domani e fra tutta quella guerra, le facevano crescere questa gelosia anche le notizie che qualche buona donna, fingendo di non sapere nulla, veniva a recarle della zia Malagna, che era così contenta, così felice della grazia che Dio finalmente aveva voluto concederle. Ah, si era fatta un fiore, non era stata mai così bella e prosperosa. E lei, intanto, ecco, buttata lì, su una poltrona, rivoltata da continue nausee, pallida, disfatta, imbruttita, senza più un momento di bene, senza più voglia neanche di parlare o di aprire gli occhi. Colpa mia anche questa? Pareva di sì. Non mi poteva più né vedere né sentire e fu peggio, quando per salvare il podere della stia, col molino, si dovettero vendere le case e la povera mamma fu costretta a entrare nell'inferno di casa mia. Già, quella vendita non giovò a nulla. Il malagna, con quel figlio nascituro, che lo abilitava ormai a non aver più né ritegno né scrupolo, fece l'ultima, si mise d'accordo con gli strozzini e comprò lui, senza figurare, le case per pochi baiocchi. I debiti che gravavano sulla stia restarono così, per la maggior parte scoperti e il podere, insieme col molino, fu messo dai creditori sotto amministrazione giudiziaria e fumo liquidati. Che fare ormai? Mi misi, ma quasi senza speranza, in cerca di un'occupazione qualsifosse, per provvedere ai bisogni più urgenti della famiglia. Ero inetto a tutto, e la fama che mi ero fatta con le mie imprese giovanili e con la mia scioperataggine, non invogliava certo nessuno a darmi da lavorare. Le scene, poi, a cui giornalmente mi toccava ad assistere e di prendere parte in casa mia, mi toglievano quella calma che mi abbisognava per raccogliermi un po' a considerare ciò che avrei potuto e saputo fare. Mi cagionava, un vero e proprio ribrezzo, il vedere mia madre lì in contatto con la vedova pescatore. La santa vecchietta mia, non più ignara, ma gli occhi miei irresponsabile dei suoi torti, di pesi dal non aver saputo credere fino a tanto nell'aniquizia degli uomini. Se ne stava tutta ristretta in sé, con le mani in grembo, con gli occhi bassi, seduta in un cantuccio, ma come se non fosse ben sicura di poterci stare lì a quel posto, come se fosse sempre in attesa di partire, di partire tra poco, se Dio voleva. E non dava fastidio neanche all'aria. Sorrideva ogni tanto a Romilda, pietosamente, non osava più accostarsele, perché una volta, pochi giorni dopo la sua entrata in casa nostra, essendo accorsa a prestare aiuto, era stata sgarbatamente allontanata da quella strega. Faccio io, faccio io, so quel che debbo fare. Per prudenza, avendo Romilda veramente bisogno d'aiuto in quel momento, m'ero stato zitto, ma spiavo perché nessuno le mancasse di rispetto. Ma accorgevo intanto che questa guardia che io facevo a mia madre irritava sordamente la strega e anche mia moglie, e temevo che, quando io non fossi in casa, esse, per sfogare la stizza e votarsi il cuore della bile, la maltrattassero. Sapevo di certo che la mamma non mi avrebbe detto mai nulla, e questo pensiero mi torturava. Quante, quante volte non le guardai gli occhi per vedere se avesse pianto? Ella mi sorrideva, mi carezzava con lo sguardo, poi mi domandava, «Perché mi guardi così? Stai bene, mamma?» Mi faceva un atto appena appena con la mano e mi rispondeva, «Bene, non vedi? Va da tua moglie, va, soffre, poverina!» Pensai di scrivere a Roberto, a Oneglia, per dirgli che si prendesse lui in casa la mamma, non per togliermi un peso che avrei tanto volentieri sopportato, anche nelle ristrettezze in cui mi trovavo, ma per il bene di lei unicamente. Berto mi rispose che non poteva, non poteva perché la sua condizione di fronte alla famiglia della moglie e alla moglie stessa era penosissima dopo il nostro rovescio. Egli viveva ormai sulla dote della moglie e non avrebbe dunque potuto imporre a questa anche il peso della suocera. Del resto la mamma, diceva, si sarebbe forse trovata male allo stesso modo in casa sua, perché anche egli conviveva con la madre della moglie, buona donna, sì, ma che poteva diventare cattiva per le inevitabili gelosie e gli attriti che nascono tra suocere. Era dunque meglio che la mamma rimanesse a casa mia, se non altro non si sarebbe così allontanata negli ultimi anni dal suo paese e non sarebbe stata costretta a cangiar vita e abitudini. Si dichiarava infine dolentissimo di non potere, per tutte le considerazioni esposte più su, prestarmi anche meno soccorso pecuniario, come con tutto il cuore avrebbe voluto. Io nascosi questa lettera alla mamma. Forse se l'animo esasperato in quel momento non mi avesse offuscato il giudizio, non me ne sarei tanto indignato. Avrei considerato, per esempio, secondo la natural disposizione del mio spirito, che se un rosignolo dà via le penne della coda, può dire, mi resta il dono del canto. Ma se le fate dar via un pavone le penne della coda, che gli resta? Rompere anche per poco l'equilibrio, che forse gli costava tanto studio, l'equilibrio per cui poteva vivere pulitamente, e forse anche con una cert'aria di dignità alle spalle della moglie, sarebbe stato per Berto sacrifizio enorme, una perdita irreparabile. Oltre alla bella presenza, alle garbate maniere, a quella sua impostatura d'elegante signore, non aveva nulla, lui, da dare alla moglie, neppure un briciolo di cuore, che forse l'avrebbe compensata del fastidio che avrebbe potuto recarle la povera mamma mia. Bah! Dio l'aveva fatto così. Gli ne aveva dato pochino pochino di cuore. Che poteva farci, povero Berto? Intanto le angustie crescevano, e io non trovavo da porvi riparo. Furono venduti gli ori della mamma, cari ricordi. La vedova pescatore, temendo che io e mia madre fra poco dovessimo anche vivere sulla sua rendituccia, datole di 42 lire mensile, diventava di giorno in giorno più cupa e di più fosche maniere. Prevedevo da un momento all'altro un prorompimento del suo furore, contenuto ormai da troppo tempo. Forse per la presenza e per il contegno della mamma. Nel vedermi aggirare per casa come una mosca senza capo, quella bufera di femmina mi lanciava certe occhiate, lampi forieri di tempesta. Uscivo per levare la corrente e impedire la scarica, ma poi temevo per la mamma e rincasavo. Un giorno però non fece a tempo. La tempesta finalmente era scoppiata e per un futilissimo pretesto, per una visita delle due vecchie serve alla mamma. Una di esse, non avendo potuto mettere nulla da parte perché aveva dovuto mantenere una figlia rimasta vedova con tre bambini, si era subito allogata altrove a servire, ma l'altra Margherita, sola al mondo, più fortunata, poteva or riposare la sua vecchiaia col gruzzoletto raccolto in tanti anni di servizio in casa nostra. Ora pare che con queste due buone donne, già affidate compagne di tanti anni, la mamma si fosse pian piano rammaricata di quel suo misero e amarissimo stato. Subito allora Margherita, la buona vecchiarella, che già l'aveva sospettato e non osava dirglielo, le aveva profferto ad andare via con lei a casa sua. Aveva due camerette pulite, con un terrazzino che guardava il mare, pieno di fiori. Sarebbero state insieme in pace. Oh, ella sarebbe stata felice di poterla ancora servire, di poterle dimostrare ancora l'affetto e la devozione che sentiva per lei, ma poteva accettare mia madre la porfetta di quella povera vecchia, donde l'ira della vedova pescatore. Io la trovai rincasando con le pugna protese contro Margherita, la quale, pur le teneva a testa coraggiosamente, mentre la mamma, spaventata con le lacrime agli occhi, tutta tremante, si teneva aggrappata con ambo le mani all'altra vecchietta come per ripararsi. Vedermi a madre in quell'atteggiamento e perdere il lume degli occhi fu tutt'uno. Afferrai per un braccio la vedova pescatore e la mandai a ruzzolar lontano. Ella si rizzò in un lampo e mi venne incontro per saltarmi addosso, ma si arrestò di fronte a me. Fuori, mi gridò, tu e tua madre, via, fuori di casa mia. Senti, le dissi io allora, con la voce che mi trevava dal violento sforzo che facevo su me stesso per contenermi. Senti, vattene via tu, orora, con le tue gambe, e non cimentarmi più. Vattene per il tuo bene. Vattene. Romilda, piangendo e gridando, si levò dalla poltrona e venne a buttarsi tra le braccia della madre. No, tu con me, mamma, non mi lasciare, non mi lasciare qua sola. Ma quella degna madre la respinse furibonda. L'hai voluto? Tientelo ora, codesto mal ladrone, io vado sola. Ma non se ne andò, si intende. Due giorni dopo, mandata, suppongo, da Margherita, venne in gran fretta e furia al solito zia scolastica per portarsi via con sé la mamma. Questa scena merita di essere rappresentata. La vedova, pescatore, stava quella mattina a fare il pane, sbracciata, con la gonnella tirata su e arrotolata intorno alla vita per non sporcarsela. Si voltò appena vedendo entrare la zia e seguitò ad abburrattare come se nulla fosse. La zia non ci fece caso. Del resto, ella era entrata senza salutar nessuno, diviata a mia madre, come se in quella casa non ci fosse altro che lei. Subito, via vestiti, verrai con me. Mi fu sonata non so che campana, eccomi qua. Via, presto il fagottino. parlava a scatti. Il naso adunco, fiero, nella faccia bruna e iterica le fremeva, le si arricciava di tratto in tratto e gli occhi le spavillavano. La vedova, pescatore, zitta. Finito di abburrattare, intrisa la farina e caugulatala in pasta, ora essa la brandiva alta e la sbatteva forte apposta sulla madia. Rispondeva così a quel che diceva la zia. Questa allora rincarò la dose e quella sbattendo man mano più forte. Ma sì, ma certo, ma come no, ma sicuramente. Poi, come se non bastasse, andò a prendere il mattarello e se lo pose lì accanto sulla madia, come per dire, c'ho anche questo. Non l'avesse mai fatto, sia scolastica, scattò in piedi. Si tolse furiosamente lo scialletto che teneva sulle spalle e lo lanciò a mia madre. Eccoti, lascia tutto, via, subito, e andò a piantarsi di faccia alla vedova pescatore. Questa, per non averla così dinanzi a petto, si tirò un passo indietro minacciosa come volesse brandire il mattarello e allora zia scolastica, preso a due mani dalla madia il grosso batuffolo della pasta, gliela piastrò sul capo, glielo tirò giù sulla faccia e, a pugni chiusi, la, 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 sul naso, sugli occhi, in bocca, dove coglieva, coglieva. Quindi, afferrò per un braccio mia madre e se la trascinò via. Quel che seguì fu per me solo. La vedova pescatore, ruggendo dalla rabbia, si strappò la pasta dalla faccia, dai capelli tutti appiastricciati e venne a buttarla in faccia a me, che ridevo, ridevo in una specie di convulsione. Ma ferrò la barba, mi graffiò tutto, poi, come impazzita, si buttò per terra e cominciò a strapparsi le vesti addosso, a rotolarsi, a rotolarsi frenetica sul pavimento. Mia moglie, intanto, sit venia verbo, riceva di là, tra acutissime strida, mentre io, le gambe, le gambe, gridavo alla vedova pescatore per terra, non mi mostrare le gambe, per carità. Posso dire che da allora ho fatto il gusto a ridere di tutte le mie sciagure e d'ogni mio tormento. Mi vidi in quell'istante attore di una tragedia che più buffa non si sarebbe potuto immaginare. Mia madre, scappata via, così, con quella matta, mia moglie di là che, lasciamola stare, Marianna pescatore, lì per terra, e io? Io che non avevo più pane, quel che si dice pane, per il giorno appresso, io con la barba tutta impastocchiata, il viso sgraffiato, grondante, non sapevo ancora se di sangue o di lagrime, per il troppo ridere, andai ad accertarmene allo specchio. Erano lagrime, ma ero anche sgraffiato bene. A quel mio occhio, in quel punto, quanto più mi piacque, per disperato, mi si era messo a guardare più che mai altrove, altrove per conto suo, e scappai via, risoluto, a non rientrare in casa, se prima non avessi trovato comunque da mantenere anche miseramente mia moglie e me. Dal dispetto rabbioso che sentivo in quel momento, per la sventatezza mia di tanti anni, argomentavo però facilmente che la mia sciagura non poteva ispirare a nessuno, non che compatimento, ma neppure considerazione. Me l'ero ben meritata. Uno solo avrebbe potuto aver pietà, colui che aveva fatto man bassa d'ogni nostro avere. Ma figurarsi se malagna poteva più sentir l'obbligo di venirmi in soccorso dopo quanto era venuto tra me e lui. Il soccorso invece mi venne da chi meno avrei potuto aspettarmelo. Rimasto tutto quel giorno fuori di casa, verso sera mi imbattei per combinazione in Pomino che, fingendo di non accorgersi di me, voleva tirar via di lungo. Pomino si volse torbido in faccia e si fermò con gli occhi bassi. Che vuoi? Pomino ripetei io più forte, scotendolo per una spalla e ridendo di quella sua mutria. Dici sul serio? Oh, ingratitudine umana, me ne voleva, per giunta, me ne voleva, Pomino, del tradimento che a suo credere gli avevo fatto. Ne mi riuscì di convincerlo che il tradimento invece lo aveva fatto lui a me e che avrebbe dovuto non solo ringraziarmi ma buttarsi anche faccia per terra a baciare dove io ponevo i piedi. Ero ancora comebbro di quella gaiezza mala che si era impadronita di me da quando mi ero guardato allo specchio. vedi questi sgraffii gli dissi a un certo punto lei me li ha fatti cioè tua moglie sua madre e gli ne errai come perché sorrise ma parcamente forse pensò che a lui non li avrebbe fatti quegli sgraffii la vedova pescatore era in ben altra condizione dalla mia e aveva altra indole e altro cuore lui ma mi venne allora la tentazione di domandargli perché dunque se veramente n'era così addogliato non l'aveva sposato lui Romilda a tempo magari prendendo il volo con lei come io gli avevo consigliato prima che per la sua ridicola timidezza o per la sua indecisione fosse capitata a me la disgrazia di innamorarmene e altro ben altro avrei voluto dirgli nell'orgasmo in cui mi trovavo ma mi trattenni gli domandai invece porgendogli la mano con chi se la facesse di quei giorni con nessuno sospiro egli allora con nessuno mi annoio mi annoio mortalmente dall'esasperazione con cui proferì queste parole mi parve di intendere a un tratto la vera ragione per cui Pomino era così addogliato ecco qua non tanto Romilda egli forse rimpianceva quanto la compagnia che egli era venuta a mancare Berto non c'era più con me non poteva più praticare perché c'era Romilda di mezzo e che restava più dunque da fare al povero Romino a mogliati caro gli dissi vedrai come si sta allegri ma egli scosse il capo seriosamente con gli occhi chiusi alzò una mano mai mai più bravo Pomino persevera se desideri compagnia sono a tua disposizione anche per tutta la notte se vuoi e gli manifestai il proponimento che avevo fatto uscendo di casa e gli esposi anche le disperate condizioni in cui mi trovavo Pomino si commosse da vero amico e mi profferse quel po' di denaro che aveva con sé lo ringraziai di cuore e gli dissi che quell'aiuto non mi avrebbe giovato a nulla il giorno appresso sarei stato da capo un collocamento fisso ma bisognava aspetta esclamò allora Pomino sai che mio padre è ora al municipio no ma l'immagino assessore comunale per la pubblica istruzione questo non me lo sarei immaginato ieri sera a cena aspetta conosci Romitelli no come no quello che sta laggiù alla biblioteca bocca mazza è sordo quasi cieco rimbecillito e non si regge più sulle gambe ieri sera a cena mio padre mi diceva che la biblioteca è ridotta in uno stato miserevole e che bisogna provvedere con la massima sollecitudine ecco il posto per te bibliotecario esclamai ma io perché no disse Pomino se l'ha fatto Romitelli questa ragione mi convince Pomino mi consigliò di farne parlare a suo padre da zia scolastica sarebbe stato meglio il giorno appresso io mi recai a visitare la mamma e ne parlai a lei poiché sia scolastica da me non volle farsi vedere e così quattro giorni dopo diventai bibliotecario 60 lire al mese più ricco della vedova pescatore potevo cantare vittoria nei primi mesi fu un divertimento con quel Romitelli a cui non ci fu verso di fare intendere che era stato giubilato dal comune e che perciò non doveva più venire alla biblioteca ogni mattina alla stessora né un minuto prima né un minuto dopo me lo vedevo spuntare a quattro piedi compresi i due bastoni uno per mano che gli servivano meglio dei piedi appena arrivato si toglieva dal taschino del panciotto un vecchio cipollone di rame e lo appendeva a muro con tutta la formidabile catena sedeva coi due bastoni fra le gambe traeva di tasca la papalina la tabacchiera e un pezzolone a dadi rossi e neri si infrosciava una grossa presa di tabacco si puliva poi apriva il cassetto del tavolino e ne traeva un libraccio che apparteneva alla biblioteca dizionario storico dei musicisti artisti e amatori morti e viventi stampato a venezia nel 1758 signor romitelli gli gridavo vedendogli fare tutte queste operazioni tranquillissimamente senza dare il minimo segno d'accorgersi di me ma a chi dicevo non sentiva neanche le cannonate lo scotevo per un braccio ed egli allora si voltava strizzava gli occhi contraeva tutta la faccia per sbirciarmi poi mi mostrava i denti gialli forse intendendo di sorridermi così quindi abbassava il capo sul libro come se volesse farsene guanciale ma che leggeva a quel modo a due centimetri di distanza con un occhio solo leggeva forte Birnabaum Giovanni Abramo Birnabaum Giovanni Abramo fece stampare Birnabaum Giovanni Abramo fece stampare all'Ipsia nel 1738 all'Ipsia nel 1738 un opuscolo in ottavo osservazioni imparziali su un passo delicato del musicista critico Mitzler Mitzler inserì Mitzler inserì questo scritto nel primo volume della sua biblioteca musicale nel 1739 e seguitava così ripetendo due o tre volte nomi e date come per cacciarsele a memoria perché leggesse così forte non saprei ripeto non sentiva neanche le cannonate io stavo a guardarlo stupito o che poteva importare a quell'uomo in quello stato a due passo ormai dalla tomba morì di fatti quattro mesi dopo la mia nomina a bibliotecario che poteva importargli che Birnabaum Giovanni Abramo avesse fatto stampare all'ipsia nel 1738 un opuscolo in ottavo e non gli fosse almeno costata tutto quello stento la lettura bisognava proprio riconoscere che non potesse farne a meno di quelle date lì e di quelle notizie di musicisti lui così sordo e artisti e amatori morti e viventi fino al 1758 o credeva forse che un bibliotecario essendo la biblioteca fatta per leggervi fosse obbligato a leggere lui posto che non aveva veduto mai apparirvi anima viva e aveva preso quel libro come avrebbe potuto prenderne un altro era tanto imbecillito che anche questa supposizione è possibile e anzi molto più probabile della prima intanto sul tavolone lì in mezzo c'era uno strato di polvere alto perlomeno un dito tanto che io per riparare in certo qual modo alla nera ingratitudine dei miei concittadini potei tracciarvi a grosse lettere questa iscrizione a Monsignor Boccamazza munificentissimo donatore in perenne attestato di gratitudine i concittadini questa lapide posero precipitavano poi a quando a quando dagli scaffali due o tre libri seguiti da certi topi grossi quanto un coniglio furono per me come la mela di Newton ho trovato esclamai tutto contento ecco l'occupazione per me mentre Romitelli legge il suo Birnabaum e per cominciare scrissi una elaboratissima istanza d'ufficio all'esimio cavalier Gerolamo Pomino assessore comunale per la pubblica istruzione affinché la biblioteca Boccamazza o di Santa Maria Liberale fosse con la maggior sollecitudine provveduta di un paio di gatti perlomeno il cui mantenimento non avrebbe importato quasi alcuna spesa al comune atteso che i suddetti animali avrebbero avuto da nutrirsi in abbondanza col provento della loro caccia soggiungevo che non sarebbe stato male provvedere altresì la biblioteca di una mezza dozzina di trappole e dell'esca necessaria per non dire cacio parola volgare che da subalterno non stimai conveniente sottoporre agli occhi di un assessore comunale per la pubblica istruzione mi mandarono dapprima due gattini così miseri che si spaventarono subito di quegli enormi topi e per non morire di fame si ficcavano loro nelle trappole a mangiarsi il cacio li trovavo ogni mattina là imprigionati magri brutti e così afflitti che pareva non avessero più né forza né volontà di miagolare reclamai e vennero due bei gattoni lesti e seri che senza perder tempo si misero a fare il loro dovere anche le trappole servivano e queste me li davano vivi i topi ora una sera indispettito che di quelle mie fatiche e di quelle mie vittorie il Romitelli non si volesse minimamente dar per inteso come se lui avesse soltanto l'obbligo di leggere e i topi quello di mangiarsi libri della biblioteca vogli prima ad andarmene cacciarne due vivi entro il cassetto del suo tavolino speravo di sconcertargli almeno per la mattina seguente la consueta noiosissima lettura ma che come aprì il cassetto e si sentì sgusciare sotto il naso quelle due bestie si voltò verso me che già non mi potevo più reggere e davo in uno scoppio di risa e mi domandò che è stato due topi signor romitelli ah topi fece lui tranquillamente erano di casa c'era avvezzo e riprese come se nulla fosse stato la lettura del suo libraccio in un trattato degli arbori di giovan vittorio soderini si legge che i frutti maturano parte per caldezza e parte per freddezza perciò che il calore come in tutti è manifesto ottiene la forza del concuocere ed è la semplice cagione della maturezza ignorava dunque giovan vittorio soderini che oltre al calore i frutti vendoli hanno sperimentato un'altra cagione della maturezza per portare la primizia al mercato e venderla più cara essi colgono i frutti mele pesche e pere prima che siano venuti a quella condizione che li rende sani e piacevoli e li maturano loro a furdi ammaccature ora così venne a maturazione l'anima mia ancora acerba in poco tempo divenni un altro da quel che ero prima morto il romitelli mi trovai qui solo mangiato dalla noia in questa chiesetta fuori mano fra tutti questi libri tremendamente solo e pur senza voglia di compagnia avrei potuto trattenermici soltanto poche ore al giorno ma per le strade del paese mi vergognavo di farmi vedere così ridotto in miseria da casa mia rifugivo come da una prigione e dunque meglio qua mi ripetevo ma che fare la caccia ai topi sì ma poteva bastarmi la prima volta che mi avvenne di trovarmi con un libro tra le mani tolto così a caso senza saperlo da uno degli scaffali provai un brivido d'orrore mi sarei io dunque ridotto come il Romitelli a sentir l'obbligo di leggere io bibliotecario per tutti quelli che non venivano alla biblioteca e scarventai il libro a terra ma poi lo ripresi e sì signori mi misi a leggere anch'io e anch'io con un occhio solo perché quell'altro non voleva saperne lessi così di tutto un po' disordinatamente ma libri inispecie di filosofia pesano tanto eppure chi se ne ciba e se li mette in corpo vive tra le nuvole mi sconcertarono peggio il cervello già di per sé balzano quando la testa mi fumava chiudevo la biblioteca e mi ricavo per un sentieruolo suscosceso a un lembo di spiaggia solitaria la vista del mare mi faceva cadere in uno sgomento attonito che diveniva man mano oppressione intollerabile sedevo sulla spiaggia e mi impedivo di guardarlo abbassando il capo ma ne sentivo per tutta la riviera il fragurio mentre lentamente lentamente mi lasciavo scivolare di tra le dita la sabbia densa e greve mormorando così sempre fino alla morte senza alcun mutamento mai l'immobilità della condizione di quella mia esistenza mi suggeriva allora pensieri subiti strani quasi lampi di follia balzavo in piedi come per scuotermela d'addosso e mi mettevo a passeggiare lungo la riva ma vedevo allora il mare mandar senza requie là alla sponda le sue stracche ondate sono lente vedevo quelle sabbie lì abbandonate gridavo con rabbia scotendo le pugna ma perché ma perché e mi bagnavo i piedi il mare allungava forse un po' più qualche ondata per ammonirmi vedi caro che si guadagna a chieder certi perché ti bagni i piedi torna alla tua biblioteca l'acqua salata infradicia le scarpe e quattrini da votare via non ne hai torna alla biblioteca e lascia i libri di filosofia va va piuttosto a leggere anche tu che Burna Baum Giovanni Abramo fece stampare all'ipsia nel 1738 un opuscolo in ottavo ne trarrai senza dubbio maggior profitto ma un giorno finalmente vennero a dirmi che mia moglie era stata assalita dalle doglie e che corressi subito a casa scappai come un daino ma più per sfuggire a me stesso per non rimanere neanche un minuto a tu per tu con me a pensare che io stavo per avere un figliuolo io in quelle condizioni un figliuolo appena arrivato alla porta di casa mia suocera ma ferrò per le spalle e mi fece girare su me stesso un medico scappa Romilda muore viene da restare no a una siffatta notizia bruciapelo e invece correte non mi sentivo più le gambe non sapevo più da qual parte pigliare e mentre correvo non so come un medico un medico andavo dicendo e la gente si fermava per via e pretendeva che mi fermassi anch'io a spiegare che cosa mi fosse accaduto mi sentivo tirare per le maniche mi vedevo di fronte facce palide costernate scansavo scansavo tutti un medico un medico e il medico intanto era là già a casa mia quando trafelato in uno stato miserando dopo aver girato tutte le farmacie rincasai disperato e furibondo la prima bambina era già nata si stentava a far venire l'altra alla luce due mi pare di vederle ancora lì nella cuna l'una accanto all'altra si sgraffiavano fra loro con quelle manine così gracili eppure quasi artigliate da un selvaggio istinto che incuteva ribrezzo e pietà misere 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 più di quei due gattini che ritrovavo ogni mattina dentro le trappole e anch'esse non avevano forza di vagire come quelli di miagolare e intanto ecco si sgraffiavano le scostai e al primo contatto di quelle carnucce tenere fredde ebbi un brivido nuovo un tremor di tenerezza ineffabile erano mie una mi morì pochi giorni dopo l'altra volle darmi il tempo invece di affezionarmi a lei con tutto l'ardore di un padre che non avendo più altro faccia della propria creaturina lo scopo unico della sua vita volle avere la crudeltà di morirmi quando aveva già quasi un anno e se l'ha fatto tanto bellina tanto con quei riccioli d'oro che io ma volgevo attorno le dita e le baciavo senza saziarmene mai mi chiamava papà e io le rispondevo subito figlia e lei di nuovo papà così senza ragione come si chiamano gli uccellini tra loro mi morì contemporaneamente alla mamma mia nello stesso giorno e quasi alla stessa ora non sapevo più come spartire le mie cure e la mia pena lasciavo la piccina mia che riposava e scappavo dalla mamma ma non si curava di sé della sua morte e mi domandava di lei della nipotina struggendosi di non poterla più rivedere baciare per l'ultima volta e durò nove giorni questo strazio ebbene dopo nove giorni e nove notti di veglia assidua senza chiudere occhio neanche per un minuto devo dirlo molti forse avrebbero ritegno a confessarlo ma è pure umano 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 io non senti pena no sul momento rimasi un pezzo in una tetraggine attonita spaventevole e mi addormentai sicuro dovetti prima dormire poi sì quando mi destai il dolore ma salì rabbioso feroce per la figlietta mia per la mamma mia che non erano più e fui quasi per impazzire un'intera notte vagai per il paese e per le campagne non so con che idee per la mente so che alla fine mi ritrovai nel podere della stia presso alla gora del mulino e che un tal Filippo vecchio mugnaio lì di guardia mi prese con sé mi fece sedere più in là sotto gli alberi e mi parlo a lungo a lungo della mamma e anche di mio padre e dei bei tempi lontani e mi disse che non dovevo piangere e disperarmi così perché ad attendere alla figlioletta mia nel mondo di là era accorsa la nonna la nonina buona che l'avrebbe tenuta sulle ginocchia e le avrebbe parlato di me sempre e non me l'avrebbe lasciata mai sola mai tre giorni dopo Roberto come se avesse voluto pagarmi le lacrime mi mandò 500 lire voleva che provvedessi a una degna sepoltura della mamma diceva ma ci aveva già pensato sia scolastica quelle 500 lire rimasero un pezzo tra le pagine di un libraccio della biblioteca poi servirono per me e furono come dirò la cagione della mia prima morte paura la cagione che che la cagione Grazie a tutti